buongiorno 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 buon sabato a tutti quanti voi amici di parlita vest oggi sabato 13 ottobre siamo qua non per caso siamo alla chiesa del buon pastore dove dove di qua partirà una bellissima iniziativa degli amici del cammino saluto da padre pio ecco qua siamo ecco qua gli amici del cammino buongiorno presidente buongiorno buongiorno siete pronti per questa bellissima vendura si 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 stiamo tutti pronti carichi vedete questi baldigiovani vedete vanno a farsi 85 chilometri a piedi all'incoronata e la cosa bella che porterete la piccola di sant'antonio quest'anno all'incoronata l'anno scorso siamo andati a bitondo poi abbiamo fatto negli anni precedenti abbiamo fatto monte sant'angelo san giovanni rotondo e bari oggi ne sarete il nome di barletta spasso in tutta la punta la cosa bella la cosa a dirà di barretto sono cose belle che rimangono un segno indelebile perché fare tanti chilometri a piedi poi a motoriali non è che vuoi si può dire che quando andiamo in questo è la mia prof invece il mio è il mio amico antonio la signora anche lei va no signora vero io mi accoglio domani ah buono buono è che non tutti possono fare è logico ognuno c'è il suo lavoro ognuno c'ha vedete ragazzi io vi auguro buona passeggiata amici del cammino di barletta vi fa onore vi fa onore veramente ragazzi buona giornata a tutti ciao 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 è bello è bello è una bellissima